osservato e molto famoso nella fantascienza, sia nei libri di Dune, sia per Star Trek, che infatti fa combaciare Vulcan, pianeta di nascita dei vulcaniani, di cui fa parte Spock, che abita proprio intorno a questo sistema. Non viene mai detto ufficialmente, ma si trova a 16 anni luce dalla Terra, della stessa distanza del sistema eridani. E nel libro di Star Trek Chart danno queste coordinate proprio per la posizione di Vulcan, quindi non lo dicono mai pubblicamente, però ti danno tutti gli indizi per far combaciare il pianeta Vulcan con questo pianetino roccioso nel sistema 40 eridani. Queste piccole stelle morenti, immagine molto romantica e molto poetica, in effetti non è sbagliata. Sono stelle che non riescono a contrarsi e di conseguenza, unica cosa che possono fare, è rilasciare energia nel mezzo interstellare. Cala la temperatura e di conseguenza cala anche la luminosità. Nel corso di miliardi di anni diventeranno nane nere, ovvero oggetti quasi impossibili da trovare e da cercare. Accade un fenomeno, in alcuni casi, in cui possiamo vedere delle immense palle di diamante, queste sfere di diamante, che vagano nello spazio. Che succede? A un certo punto rallenta il raffreddamento, e ciò è dovuto al fatto che il carbonio sta ridistribuendo energia, andando a creare un cristallo. L'energia, infatti, viene utilizzata, invece che in irradiazione, ovvero che essere immessa nello spazio, viene utilizzata per questo processo. Quindi si osserva un rallentamento nel raffreddamento. Successivamente, invece, prosegue più velocemente. Una volta che ha creato questo reticolo cristallino, che ha formato questo cristallo, rilascia molto più velocemente energia. E quindi si raffredda più velocemente. E quello che lascia dietro di sé è proprio questo gigantesco cristallo di carbonio, che può essere in alcuni casi proprio diamante, delle dimensioni di un pianeta. Un esempio è Lucy, un pianeta trovato nella costellazione delle serpente, nominato così in onore della canzone dei Beatles, che come dimensioni e come pesantezza, come massa, dovrebbe corrispondere a un diamante di circa 546 carati. In realtà, delle nane bianche ne esistono di vari tipi. Le white dwarf, più comuni, che riusciamo ad osservare, sono quelli di carbonio-ossigeno, come composizione del nucleo. Abbiamo però delle stelle che si sono fermate alla combustione dell'idrogeno, e quindi hanno un nucleo solo di elio. E queste sono proprio delle white dwarf di elio. In realtà ne esiste anche un terzo tipo, derivante da alcune stelle di massa poco superiore alle otto masse solari, creando che arrivano a bruciare un po' di carbonio e creano delle white dwarf di ossigeno e neon. E sono quelle un pochino più massicce. Non so se ci avete fatto caso. Oddio, ci siamo fermati prima un pochino, ve ne ho un po' parlato. Ma siamo partiti da idrogeno, e piano piano stiamo costruendo degli elementi più pesanti, come il carbonio, l'ossigeno, due elementi fondamentali per la nostra vita. Però noi ogni giorno siamo a contatto con una moltitudine di elementi. Basti pensare anche soltanto ai metalli. Questi. Da dove derivano, ad esempio? Beh, per farlo, per saperlo, dovremmo aspettare una settimana e parlare della fine della vita delle stelle. Più grandi, proprio le più gigantesche, appunto quelle delle esplosioni, le supernove, quelle che stanno alla base del segreto della nostra vita. Le stelle gigantesche tra gli eventi più importanti e anche meno compresi dell'astrofisica. Proprio le supernove. Vedremo cosa succede alle stelle più massicce e cosa succede alla fine di questo fantastico viaggio. Bene, io anche per oggi ho finito. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Ammetto che a me questo viaggio sta piacendo. Mi sto divertendo. Mi consente di approfondire, di dirvi alcune curiosità, come appunto del pianeta di Spock. Niente, io spero che piaccia anche a voi. Vi invito di nuovo a mettere mi piace, a iscrivervi e seguirci sulle nostre pagine Facebook, Instagram, a seguire cosa sta facendo il planetario, perché stiamo tornando in attività finalmente. E noi ci sentiamo la settimana prossima con l'ultima puntata della vita delle stelle. Quindi, ciao! Ciao!